Gindo, che cos'è un fiore bianco? Perché l'intitolazione di questo parco fiore bianco? Beh, un fiore bianco credo che in qualche modo rappresenti un po' tutta la storia di Elisa, un fiore spezzato che adesso sta ritrovando in qualche modo il suo candore dopo 30 anni di oscurità. Quindi credo che la giornata di oggi sia particolarmente importante perché in qualche misura rintitolare il parco come parco del fiore bianco e poi portare e riportare Elisa in centro quando sarà inaugurato ovviamente il Largo Elisa Claps di fianco a quella chiesa che ha un valore simbolico purtroppo fortissimo in questa storia. Credo che sia una sorta di catarsi collettiva e di riconciliazione in qualche modo. Non so chi l'ha affrontata, questa roba ha fatto antifurto praticamente. Grazie. Grazie.